I muster science shepard Ma come lo vedi? Ma pensavo se no si che gli scappava veloce Oh ma sono fissati con le palme in questa serie lì Volevi Volevi, ci vuole il tormentone E' vero, ma quello viene con il tempo Oppure si inventava, se non si ruba un... Volevi si fa, si ruba Ma come ruba? Sì, ti direi che siete qui da Anderlos Finalmente sul gioco attuale Ciao da Pax2 Più che attuale è Outlast E non il mistero Corvo 81 Zio Tibi ha le nostre spalle che è tornato alla grande Non si vede un cazzo Vai più avanti Oh si vede Ragazzi, hai capito? Eh, no? No, si taglia perchè YouTube ci censura tutto Sio Tibia Eh, suona bene Sio Tibia Sio Tibia Allora Le premesse ci sono tutte Iper violento Iper sanguinario Iper... Iper memo E cosa aspettiamo noi? Nulla A livello? Allora, livello Aspettavo un caffè Oh! Folle no Perchè quello che Se muori una volta Muori per sempre Se rimane così le regole Quindi incubo Se vuoi vedere Tanto poi te lo dice folle E poi torni indietro Ti cagli addosso Dici? Prova un po' Se dove è l'incubo Oh dai, si è appestato o si Si è appestato l'incubo Vabbè Incubo Tanto te lo dice subito all'inizio E si torna indietro Siamo sicuri? Si Visto? Nessun check point Se muori per tutti i progresi No 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 Ok Allora Incubo Noi ci piace farlo difficile Ma finirlo Perchè sennò Contenze di violenza Sangue, contenuti di carattere sessuale E linguaggio esplicito Buon divertimento Ma non c'è quello censurato A me mi da noia Si 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 Questo qui è un pedic Shhh Il Rengerman È una giornalista investigativa Che indaga sull'omicidio In una ragazza eccita Morta in circostanze Si spiegabili in provincia rurale dell'Arizona Sempre in mezzo a contadini Tu vesti i panni di Black Langer Tu vesti Su marita si sente canna Documenta tutto Non Non siete combattenti Quindi l'unico modo per sfuggire agli errori Che vi attende questo romano in moto È correre, nascondervi O morire Morire E poi ci si può E per questa ragione Dio manda loro una potenza d'errore Perchè credono alla menzogna Hai capito? Ma Dio manda una mestemmia Shhh Oh non mi fate incazza Chi è? Chi è? Chi è? E basta Guarda chi è lei Chi è? E' una lì Jessica E' sempre più spessiva che Massa e petta Andromeda E' sempre più spessiva che Dio Stavo dormendo di Jessica Gray Da quando eri figli Oh sì Non ne ho pensato di lei Ehi Siamo passando in Reservation Land Tu stai cercando di un tipo di Vagliore Sì Possiamo guardare Ma non c'è nulla qui Si sembra molto trascinato Si 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 Ma sono Zoi fuori Guarda Chi è il pilota che schizza a questi come vanno avanti gli schizza vanno indietro Ma vedi c'è delle cose strane fuori C'è strane fuori Sono giri Giri E' le gocciole Bordate Ale Un T-rex Un T-rex Ok Brisky Eh Eh ma lì poco Brisky 3 2 1 schiantare lì otter per forza Jean Jenny Do Ah su questa tizia lì ok va bene Vi Nel Il 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 dovremmo potremmo parlare del fetus, come se... qui, vorrei provare una versione che può servire come un'intro per il tutto diciamo quando stiamo bene ok, stiamo bene vai, guarda, è sulla destra c'è già uno cos'è il fantasma? guarda, gli asca di là non era prevedibile anche uscire il contrario in fuocata promette bene vuoi una spada? si certo e poi abbassa il volume se ti danno... zitto ma c'è qualcuno che spazza? è la 6-5 no, è lui che strascia i piedi no, si senti ta 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 lo senti? vedi le increspature del linoleum con il riflesso del... eh? delle luci avevo dato la cera vuoi di? no eh oh eh oh, la bimbetta di me Shining eh? no? si mi sembra più blob mi sembra più blob anche perchè ora noi siamo qua quindi... non serve apri la porta tocca ripetutamente tocca ripetutamente tocca ripetutamente tocca ripetutamente tocca ripetutamente non so cosa può servire però è divertente no vediamo che questa volta si abbatte a litio invece che quelle pelline a fotti capito? no ganzo no via Vai in touch Ripeto il materiale girato Oh, è lo speso nel collo Hai visto, no? Che filascia Trova l'in Eh, oh, sei visto che è morta Dunque C'era scritto per visualizzare il tuo obiettivo Poi è arrivato Questo Ma secondo me dove dove andrà? Scendili Ma il mio è tanto alto Vai, ciao Ma da l'arde Dopo 30 mattrani di video joy Poi è una tassa Pensavi sulla spoggenza Muoviti verso di esso Ma non a chiudere le porte Non a chiudere le porte Che fai? Che cosa succede se caschi di sotto? Tanto siamo all'inizio No Salta Poi Ma da 20 centimetri di sarto Gli eventi importanti devono essere registrati Premere B per sollevare la videocamera E... La videocamera Mentre la puntata fino a completamente... Al completo Mi piace leggere Non so Mi piace leggere la videocamera Zoom Faccia zoom VT Sarà con quelli dietro Presumo Secondo me non lo devi fare Con l'analogico? No Così mi consumi subito la batteria Dai vado Ma come fa a sapere Quando deve registrare Quando c'è un avvenimento speciale Vediamo un po' Cos'è? Non era lì Il corpo di Lynn non era in una scuola Non potrebbe ancora essere a vivere Ma anche di là ci ha commenti Che possono essere d'aiuto Cristo c'è Non è in qui Lynn! Lynn! Oh merda Allora qui per esempio Bisogna firmare Perché un po' è cascato E' finito lì Mentre si levava i pantaloni Basta riprendere Eh le mosche mi danno noia Mi chiede? Eh sì ho caccato Puoi guardare indietro Tenendo prevuto LV Non è una bella cosa Comunque C'è una batteria scaria Oh grazie Non so se è davvero Un bene Che ci sia un villaggio Infatti c'è C'è il villaggio Quindi c'è qualcuno Chi c'è? Ma è il vento Busso? Eh o cosa vuoi fare In queste condizioni? Sbussa Ma prende anche per il culo Apri Cap'è il casino Abbassati Perché? Ci sa mai Ma cosa urli? Stai zitto no? Non è mai guardato Un film horror Questo lì Mi sta zitto Se c'è uno scotticato Scusate Se c'è uno scotticato Se c'è uno scotticato C'è un villaggio Che non ci dovrebbe essere Qualcuno che mi uccide Aiuto Sono solo Indifeso Per sbicciare Se ne hai piuttosto Le tire Ah Adesso potrei pedalare Ma dove sbicci? Lì sbicci Questo lì mi aspetta Aspetta Andate via Ma a destra cosa c'era? Un ammasso di roba Questo si riprende No Non lo vuole vedere Ma registrare in automatico Sì Ma dove mi interessa? Mi interessa Jumpscare A quanto è quotato? Pè Chi è? Ma questo era A riprendere Secondo me Capito? Ma con tutti i batteri Ah Ma qui è un quadro O è uno Davanti al quadro Non capisco C'è uno che urla Allora di là È un assassino No? Quindi sarà di qua Ora Chiuso Bene Ricarica Ma con cosa Ricarichi C'è una sega Ma basta Dare lo schiaffo Un monumento funebre Boh Hai sentato anche Un inquadratura Perché È vero Solo per dirlo io E l'ho detto prima io Va bene? Bastardo Ma qui si fa Nel culo vai Era un mio amico Cioè Qui si bisogna Aprire anche le finestre Gazzola Chiudi io Chiudi Subito Così siamo Trappola Va bene Se no Ma via caldo Ma non Se vuol dire Può essere usata Per zerare Sbloccare la porta Ma c'è scritto Tieni premuto? Questa scoglie sotto l'errore Ah ok Trappolini fuori Cosa C'è un buro Questo è il tutorial Dai Finito il tutorial Ci scorticano Ci scorticano Sono teso Ma te Con il suo mio batteria Lo vedi Ho capito Ma tanto Ma vai il culo Se lo usa il buio Ma ti entri così In casa Altrui di corsa Porca maiale Cos'è quel Ora si legge tutto Però eh Il tamento Il bambino in arrivo Il coltello al tramonto Il bambino in arrivo L'elevatrice Tieni Tieni Una canzone La conosci? Quella che ha fatto Battissimo Vabbè tanto non ti Battissimo Il figlio di satana Ecco questo non è necessario leggere Figlio di satana O figlio di puttana Ok Che tu non posso zoomare Non ci credo Porca maiala Questo non te lo è Non te lo fa Registrano Ah c'è qui Guarda a modo Che troia Si può dire tranquillamente Che è già bello peso Il gioco Si A dirittura c'è un dondolo Che è la spesa Martalena Oh qui si striscia anche Paga vai Comunque lo zoom Mi sembra strano Oh hai rotto il cazzo Dai Non posso dire C'è lo zoom E non lo uso Questo che Piano Tantatele parla Ci sono Piano Ora Ora Se ci chiede Allora Questa villa L'hanno chiappata Stasetta Di matti Per fare Arrivare il figlio Del demonio Ora Se ci chiede Il pezzo L'alzone Un celletto Ci fa Nel culo Eh si Il mio tesoro Era il costo Della levatrice Oh merda La prima morte Subitosi Che si è secco Aia Boia Senza tanti complimenti Però se è durato Due secondi Dopo il tutorial Sei troppo atace Comunque Ma come andavo piano Mo' è fra tre Due Uno Che cazzo Le va Là E' stato precisissimo Preciso Insomma Andavamo andati là Via E vediamo se ci ritorni Ehi Ma come l'idea Ma come lo vedi Ma pensavo Sennò si Che gli scappava Veloce Sennò si Oh ma Sono fissati Con le palme In questa serie Dunque Si dicevano E vado Cioè Che casuale A sinistra Non ci puoi andare Mi viene andato Affitto di dritto Che a sinistra Che come c'era Ma tu Sinistra Ma cazzi Ma se non ci dicevi a destra C'era tipo una porta Sembrava Ma lì si è dove è prima Ma dove Dietro che sto so Qui Ma dove è la porta No è il cosso Era il cosso della tasta Lì Dio No Faremo un'unica puntata Fin qui E poi basta E poi lo rinizieremo A livello facile Che cazzo che manda Dovevo uscidare di là Oh O a destra O tutta a destra Contento No Ti ha già visto Vai Vare Come scappa Come mi fa scappare Allora Va tirata da qualche parte Perché se no Non ho capito Ma se poi scappi E ti piglia Ti miglia Detro a un nascondiglio E' semplice Passa E te Scucci dietro Si prima che finchè non arrivi a un certo punto Non passa Cioè lei non parte Fin La La Il movimento Non parte finchè te non arrivi lì E ti vedi Ma è il 13 prima Poi passa State lavorando delle teorie di merda Guarda Qui si può girare Ci si fa rincorre Si gira E ci si fa di po' È lunica ragazzi Proviamo Vì Che pigi Scucci E Corri Eccola Ho te visto Allora fa Corri Sì! No, 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 no! Do you hate him, Gar? Do you hate him? God, do you own him? Then you'll have him. God wants me dead? Okay? Come on. Please, my gentlemen! I see him! Hey! Woe to the bloody city! God! Daddy, help me! God! Daddy, please! Daddy, oh God! What the fuck was that? Daddy, help me! It's like they're hypnotized. Why must we do this terrible life? Do you hate this God? Do you hate this world? Hey, do you know what God is saying? God said, Dr. Moses, I am, and I am, and that's all there is to it. We stand in opposition to the Antichrist. If we hope to be the people, we cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. Now, God has sent us this woman. That's the killing of God. That's the killing of God. Thank God. God, that's the killing of God. God, I ask you, who is this outside? A stranger. Come into a hospital. Listen to me! Please, we cost me! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.